Non una storia nuova quella di un'importante città europea che decide di dire basta al software proprietario a favore di quello open source. Tutti ricorderanno infatti il tentativo di Monaco di Baviera. Non l'unica città in verità. Era la fine del 2006. 11 anni fa. Ma a questo tentativo seguo anche la ritirata e il ritorno tra le braccia di Microsoft Windows. Proprio alla fine dell'anno che si è appena concluso. Ora sembra la volta di Barcellona che entro la primavera del 2019 punta a soppiantare Outlook Office e Internet Explorer. Ma pare anche del sistema operativo. La CIT sta investendo quindi il 70% del budget per il software in progetti open source. Che dovrebbero diventare operativi proprio alla fine del mandato del governo attuale. Eventuali problemi saranno a carico del governo successivo. Come sistema operativo arriva una distribuzione Linux Ubuntu. G sperimentata su mille desktop. Su uno specifico processo della PA. Lo rivela il quotidiano spagnolo e il PAS. La commissaria per l'innovazione digitale del distretto di Barcellona Francesca Abria spiega che nella fase iniziale si sostituir progressivamente il software client e server di posta elettronica. Outlook Exchange, Internet Explorer, e le applicazioni della suite di Office a favore di Open Exchange. Mozilla Firefox e Open Office. COS Barcellona si prepara ad aderire all'iniziativa Public Money Public Code Foundation della Free. Software Foundation Abria aggiunge. I fondi che arrivano dai cittadini devono essere investiti in soluzioni che possano essere riutilizzate e adattate a un ecosistema locale. Ovviamente la mossa volta a ridurre i costi delle licenze ma soprattutto la dipendenza da pochi fornitori con conseguenti riflessi sui contratti G in essere da decenni e il software open source sviluppato da Barcellona Sar poi reso disponibili per altri comuni spagnoli in progetti come il monitoraggio dei sensori sviluppato per la CIT, Sentillo, e G utilizzato a Dubai e in Giappone. Al momento, per sostenere questa iniziativa la CIT sta assumendo 65 ingegneri. Mette pronti a iniziare il lavoro questo mese e l'altra mette il prossimo gennaio. Per arrivare a un bilancio sull'operato bisogna raspettare probabilmente la fine dell'anno prossimo. ma viene da augurarsi che Barcellona si sia effettivamente confrontata con Monaco di Baviera per analizzare a fondo perché la CIT tedesca ha rinunciato.